Sul terzo valico cambia ancora la previsione sulla fine dei lavori, adesso si passa dal 2025 a metà 2026 ma solo per una linea, sarà quindi solo a metà servizio. E' già molto interessante che si torni a leggere di comunicazioni sul terzo valico con più regolarità, dopo che per un anno e mezzo circa si è registrato un calo nelle note ufficiali sullo stato dei lavori. L'impressione è che si è preferito non parlare troppo delle difficoltà riscontrate nella realizzazione delle gallerie di Arquata Scrivia, cantiere Radimero, dopo che due talpe sono rimaste bloccate sotto le gallerie per colpa della friabilità del terreno, causa seria di problemi per la sicurezza dei lavori. Da qualche giorno però in il terzo valico ritorno in primo piano, anche in Piemonte, per le dichiarazioni del genovese Edoardo Rixi, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Meloni. Nei giorni scorsi le agenzie, giornali e i siti online delle ferrovie, soprattutto della Liguria, hanno riportato alcune dichiarazioni del vice ministro. Per il 2026, ha detto Rixi, prevedo il transito dei treni probabilmente su una canna sola, come è avvenuto ad esempio in Svizzera, visto che il problema è legato a problemi geologici sorti durante i lavori. Ma devono cambiare, e l'abbiamo già previsto a luglio scorso, i metodi di lavorazione. Continua Rixi nel senso che normalmente si scava e poi si fa l'andamento ferroviario, ciò costa di meno. Invece sul terzo valico si manterrà un andamento ferroviario, mentre si scava per ridurre di due anni i tempi. Perché questo cantiere è il simbolo del paese, ha detto Rixi. Se non lo chiudiamo in tempo, non è il governo qualcuno che ci rimette qualcosa, ma è il sistema Italia. La scommessa deve essere di tutti. Anche le aziende si giocano la faccia su opera di questo livello, come se la gioca il vice ministro quando va a parlare in giro. Ricordiamo che questa linea ferroviaria tra Genova e Rivalta Scrivia ha un costo che è salito a 7 miliardi di euro, compreso il nodo ferroviario di Genova, e che sono decine i comuni che sono toccati dai lavori. Ultimamente se ne era parlato anche in una commissione del Consiglio regionale, che aveva voluto sentire i pareri e gli umori degli 11 sindaci dell'Alessandrino toccato appunto dalla costruzione del terzo valico.